Le principali associazioni di consumatori e di esercenti presenti in tutta la regione ci hanno segnalato come l'eccessiva regolamentazione di quelle che vengono chiamate vendite straordinarie, cioè saldi, vendite promozionali, eccetera, in realtà vadano a penalizzare i piccoli commercianti e a creare un ingessamento del mercato spesso a favore ad esempio delle grandi catene o degli outlet che hanno altri strumenti per poter applicare prezzi più bassi durante tutto l'anno. Noi con questo progetto di legge andiamo a proporre una liberalizzazione di quelle che sono le vendite straordinarie, chiaramente regolamentandone alcune parti, però aprendo a tutto l'arco dell'anno, non solo ai periodi limitati presenti oggi per legge, appunto la possibilità per i commercianti di poter fare vendite straordinarie e saldi. In questo modo cercheremo di aiutare i commercianti ad aumentare il loro giro d'affari e aiutare anche i cittadini a trovare prezzi più convenienti durante tutto l'anno nei negozi per i prodotti a cui sono interessati. Chiaramente aspettiamo le vostre proposte e le vostre eventuali modifiche al testo che vi alleghiamo e appena saremo pronti depositeremo il testo in regione.